Presentato a Palazzo San Giacomo il gruppo di lavoro per il progetto che estenderà la metropolitana Linea 6 da Via Campegna fino a Bagnoli e a Posillipo. La gara internazionale è stata aggiudicata ad un raggruppamento guidato dalla società MM Spa. Questa opera valorizzerà l'area di Bagnoli che da tanti anni è stata in una situazione di limbo e la possibilità di sviluppare lato turistico la parte di Posillipo. Lo studio conterrà anche diverse opzioni sia per il segmento che raggiungerà la zona di Coroglio sia per quello che arriverà a Piazza San Luigi. Il valore della progettazione è di 21,3 milioni di euro. Ci sono due opzioni che stiamo analizzando sulla posizione della stazione Neghelli che può essere all'interno o all'esterno della caserma e poi dopo il tracciato arriva all'acciaieria oppure se passare dal lato del parco o dello sport. Mentre verso Posillipo si ipotizza un solo binario con la metro che andrebbe avanti e indietro a seconda dell'esigenza. Comunque stiamo analizzando tutte le ipotesi e le condizioni al contorno per verificare qual è la possibilità e qual è la migliore condizione di passaggio per il tracciato. Diciamo che per inizio gennaio dovremmo essere alla fine della prima fase del progetto, poi dopo è previsto l'opzione per il progetto definitivo e il progetto esecutivo che è successiva, che prevede un altro annetto.